Perché ho deciso di fare, diciamo così, una piccola live tematica con voi per parlare un attimo di questa faccenda riguardante il declino di One Piece. Oggi infatti l'amico Alex su Instagram mi ha mandato un articolo, un articolo che vorrei leggere con tutti quanti voi, subito, così debotto, e ce l'andiamo infatti a leggere, mi metto piccolino, un articolo di EveryEye riguardante One Piece e le vendite del 2020. Il manga è fuori dal podio, riuscirà a riprendersi, si chiedono gli amici di anime.everyvye.it, e quindi l'amico Amedeo Sebastiano ci racconta questo. Dopo anni di dominio, nel 2019 One Piece ha perso la corona, incredibilmente. Demon Slayer gli ha strappato di forza il titolo, aggiudicandosi il ruolo di manga più venduto dell'anno come serie. Quest'anno il manga di Koyoharu Gotoge non lascerà nuovamente scampo, dato che ha già surclassato i record storici di One Piece. Nel frattempo grazie a M.M. McCormick per esserti abbonato. Perso il primo posto, One Piece poteva puntare alla medaglia d'argento per questo 2020, tuttavia, con i dati di agosto e quindi tre quarti dell'anno editoriale già conclusi, i numeri del manga di Heichiro Oda non sono incoraggianti. Naturalmente le sue vendite sono sempre stratosferiche rispetto a un manga normale, eppure sono in calo. Grazie anche a Berserk99 per essersi abbonato. L'account Twitter ManganimMY, che da sempre tiene traccia delle vendite del manga grazie alle classifiche Oricon, quindi quelle ottime, rivela qual è lo stato complessivo di vendite della serie. Quindi Demon Slayer che ha vinto la faccenda con 63 milioni di copie vendute, Kingdom, questo The Quintessential Quintuplets, che non conosco, IQ e poi One Piece. Come si può vedere, One Piece è nella top 5 ed è ben lontano dai titoli alle sue spalle, ma è ben lontano dalle prime posizioni. Se Demon Slayer è raggiungibile, anche in caso di miracoli, One Piece potrebbe cercare di arrivare al secondo posto superando Kingdom, ma quest'ultimo sta cavalcando la spinta data dall'anime. Il terzo posto, con il volume in uscita a settembre, potrebbe essere sicuro per il manga di Oda, ma ci sarebbe comunque un calo rispetto alle vendite degli ultimi anni. E poi vabbè, con l'arrivo della seconda stagione, scazzi e mazzi e va bene. E quindi volevo partire da qui un attimo, no? Per fare un po' questa storia, diciamo così, del declino di One Piece. Dice per esempio White Wolf 8, questo articolo lascia il tempo che trova. La sezione di anime, vabbè, non è questo il punto. Il punto è che, secondo me, e poi sono curioso di sapere la vostra, vorrei capire un attimo se sono io, perché io sono quello che naturalmente parla di One Piece, quindi sembra quasi che io debba sempre fare l'avvocato difensore di Echiro Oda quando in realtà si difende benissimo da solo. Sembra quasi, ormai, che da un paio di anni a questa parte, grazie anche a questo exploit, diciamo, di Demon Slayer, tutti quelli che sono stati i detrattori di Oda e di One Piece abbiano festeggiato perché erano vent'anni che questi cercavano in un certo qual modo sempre di contrastare, mettiamo così, il successo di un fumetto e non ci riuscivano, non riuscivano a spiegarsi perché questo fumetto avesse così tanto, come dire, successo. e quindi per partito preso sembra quasi che siano stati contenti di questo declino di One Piece. Dice per esempio Nico, io sono d'accordo, ma da quando le vendite sono indicative della bellezza di un'opera? In realtà, secondo me, non sono mai indicative nella bellezza di un'opera, però va dato anche atto che se vende un'opera un perché ci sarà, ci dovrebbe essere. Almeno, io ho sempre pensato così per quanto naturalmente noi possiamo demonizzare un prodotto per il fatto che venda tanto se vende ci sarà qualcuno che lo apprezza che poi in realtà effettivamente effettivamente Demon Slayer sia stato benedetto da quel cartone animato bellissimo qui non ci sono dubbi però, però, però da qui a dire che One Piece è calato è morto c'è stato un declino e beh, e beh, e beh è un po' difficile almeno io la vedo un po' strana come cosa nel frattempo grazie al Roboleto che si è scritto e ci racconta Ciao Sommo dopo aver smesso di leggere One Piece per un paio d'anni sto finendo proprio ora di recuperarlo devo dire che ho trovato le ultime saga che è molto scorrevoli ma non ho ancora finito Wano Kuni a differenza di quanto dicono molti e il buon Roberto ci dà proprio il là per una cosa di cui volevo discutere ovvero che quando naturalmente ormai parliamo sempre di One Piece dobbiamo tenere conto del fatto che effettivamente il time skip è un qualcosa che tutto il time skip andrebbe letto veramente come un'unica saga perché a parte la questione dell'isola degli uomini pesce è effettivamente una macro sala una macro mitologia totale tombale che è impossibile districare è impossibile questa è una cosa che vi ho già raccontato dividere fondamentalmente il post time skip di One Piece rispetto a quello che facevamo prima col pre time skip che erano tutto sommato delle saghe più o meno unite da un filo conduttore ma che si potevano tranquillamente prendere singolarmente invece il post time skip assolutamente è impossibile separare tutte le saghe perché hanno davvero questa macro saga macro mitologia totale tombale orizzontale tuttavia tuttavia tornando un attimo a questa faccenda diciamo delle vendite vi volevo far vedere un paio di cose interessanti ovvero 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 che sempre quelli che parlano chiaramente del declino di One Piece e tengono conto di questo problema derivante dalle vendite dicono ah vabbè One Piece è calato perché nessuno se lo compra più guarda invece Demon Slayer che durante l'anno solare ha venduto 38 milioni di copie quando 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 il record precedente era stato di One Piece nel 2011 con 37 milioni di copie in realtà quasi 38 milioni diciamo quindi c'è uno scarto qui di 200 mila copie che sono poche ma sono comunque tantissime in realtà in realtà quelli che puntano su questo problema delle copie vendute io mi sono andato a vedere i dati poi io sono una persona male sono una persona male io quando si deve fare una discussione quella voglio fare con voi mi vado a vedere effettivamente poi i dati questi sono dei dati per esempio che risalgono dal 2008 al 2018 quindi prendono 10 anni totali tombali e poi ce ne sono anche degli altri che io avevo messo proprio qui nel quale ci si nel frattempo è uscita una cosa in cui mi si diceva che la mia connessione è stata ripristinata non so per quale motivo se n'era andata spero di no non vedo lag o strane cose nel quale nel quale si vedono effettivamente tutte le vendite di One Piece e qui vedete che fondamentalmente One Piece ha sempre venduto tantissimo purtroppo non abbiamo i dati dal 1997 al 2008 o meglio li abbiamo ve li faccio vedere dopo ma era per farvi capire una cosa in particolare e qui guardate vi faccio vedere questi picchi che voi vedete qui di quasi 40 milioni di copie quindi questi 38 milioni di copie del 2011 sono naturalmente le copie vendute a cavallo per l'appunto tra il 2010 e il 2011 quando lo sapete Shueisha Echiro Oda e Toei Animation decidono di fare una cosa molto simpatica nel frattempo grazie mille a Malcolm XXX decidono di fare una cosa simpatica ovvero non solo di promuovere per bene la saga di Marineford che nel 2010 ha proprio il suo exploit ma decidono soprattutto di puntare anche su Strong World sul cinema e quindi di far confluire quello che era a tutti gli effetti un film per appunto Strong World nella diciamo così canonicità del manga perché se voi eravate in Giappone prima di entrare al cinema probabilmente lo sapete se non lo sapete siete delle persone male ma sicuramente lo sapete vi regalavano il fumettino di Strong World all'interno del quale c'era il famigerato capitolo 0 che è a tutti gli effetti un capitolo canonico del manga e quindi One Piece lì ha un boom eclatante perché il manga in quegli anni si avvia verso le fasi finali della guerra di Marineford il cartone animato che viene mandato in onda inizia proprio in quegli anni in cavallo tra il 2010 e il 2011 con Marineford quindi One Piece ha un exploit gigantesco e poi tutti quanti si vanno a vedere il film quindi cosa succede? succede esattamente quello che è successo poi con Demon Slayer in questi anni c'è questo boom incredibile di vendite eccole qui eccole qui nel quale tutti quanti vedete no? qui in questo ve lo faccio vedere meglio in questo diagramma si vedono bene tutti quelli che si vanno a recuperare i fumetti di One Piece perché non li avevano mai letti con le vendite nuove dei volumi che rimangono sempre stabili One Piece ogni anno vende mediamente tra i 5 e i 12 milioni di volumi all'anno perché poi all'anno escono sempre 4 volumi quelli escono 3-4 volumi ogni volume fa 3-4 milioni di vendite quindi ci ritroviamo ma tutti quanti si sono andati a recuperare tutta la roba che c'era prima e il problema il problema di nuovo è che questi sono dati di 10 anni fa e oggi e i social network qui non è che avevano il peso che hanno oggi internet naturalmente c'era ma non aveva quella carica virale che ha adesso quindi nel momento in cui c'era tutta questa roba e internet c'era ma non era proprio così esteso come oggi naturalmente già all'epoca One Piece aveva avuto una roba incredibile aveva avuto un exploit incredibile lo stesso exploit che ha avuto poi proprio col cartone animato e con i film eccetera Demon Slayer a cui poi bisogna aggiungerci questo passaparola incredibile anche dei social network tutti quanti immagino abbiate conosciuto questo Demon Slayer perché magari ne parlava qualcuno perché magari un amico nerd diceva hai visto sto leggendo questo fumetto perché il cartone animato è bellissimo e ve l'ho raccontato a me me lo consigliò la cassiera del supermercato che sapeva che a me piacevano i fumetti e i cartoni animati mi disse ma te lo stai leggendo Demon Slayer te lo stai leggendo leggendo Demon Slayer e va bene e va bene andando ancora più nello specifico proprio per come dire per perorare questa causa c'era un altro simpatico schemino che vi volevo far vedere questo è un vecchio mio post del 2018 nel quale vi raccontavo esattamente queste stesse cose ovvero che One Piece è comunque il leader in contrastato vende in media questi 14 o 15 volumi in generale e qui per esempio si vede questo è interessante vi faccio vedere meglio non so se si vede aspettate ve lo ve lo zoom eccolo qui per esempio qui vedete ogni linea ha il suo colore simpatico c'è One Piece che ha questo picco in alto in crescita gigantesco dopodiché c'è l'attacco dei giganti il mitico attacco dei giganti il quale per i primi due anni di serializzazione se lo cacava quasi nessuno o meglio aveva comunque delle ottime vendite essendo comunque stato almeno all'inizio presentato come un manga tutto sommato di nicchia il primo anno ha venduto 4 milioni di copie il secondo 2 milioni e mezzo di copie poi l'improvvisore 16 milioni di copie 16 milioni di copie 11 milioni di copie 9 milioni di copie perché? perché qui è uscito il cartone animato qui è uscito il cartone animato quindi di nuovo ci ritroviamo a parlare proprio di questa cosa di cui tutti quanti insomma sembrano quasi dimenticarsi l'anime proprio come diceva poi spesso Osamu Tezuka aiuta tantissimo tantissimo il cartone animato e il fumetto naturalmente però la domanda ve la voglio fare la domanda ve la voglio fare tenendo conto di poi forse noi siamo un po' di parte quando parliamo di One Piece è inutile negarlo diciamoci la verità ci piace One Piece lo leggiamo amiamo incondizionatamente questo fumetto anche quando magari ci sono delle cose che non vanno e ne parliamo però sono curioso sono molto curioso di domandare a voi secondo voi e quindi rispondetemi qui sotto nei commenti cos'è che non va in One Piece se c'è qualcosa che non va ci sono tante brutture storture si vabbè c'è Lucky si ci sono tante retcon di Oda che a volte ritornano a volte non ritornano ci sono tante piccole cose che quando tu te lo vai a leggere la maggior parte delle cose tornano altre purtroppo no però sono curioso di sapere voi voi che cosa ne pensate ovvero cos'è che non va cosa c'è che non va in One Piece che si è un'altra cosa c'è che non va